Vedi Lois, questa va molto meglio. Ma che cacchio, perché non si abbottone? È la taglia che prendo sempre. Forse hai messo qualche chilo, tesoro. Lois, oggi peso gli stessi 130 chili che pesavo quando ero ragazzino. Forse questa è screscenza sul collo, signore. Oh mio Dio, Peter, ma da quanto tempo ce l'hai? Che cacchio ne so? Dobbiamo andare subito dal dottor Hartman. Ostra cacchio, e se fosse qualcosa di grave? Va tutto bene, calma, siamo in buone mani con il dottor Hartman. Mi ha operato lui il cambiamento di genere. Emotivamente credo di essere stato sempre una lucertola. E ora mi sento finalmente a mio agio, nella mia pelle ruvida e squamosa. Se avete bisogno di me, vi trovate sul muro a lanciare sguardi dardeggianti. Lo fai solo per evitare la visita dei miei? No! Siamo noi! No, tu sei stupido. Salve Griffin, cosa posso fare per voi? Dottor Hartman, Peter ha una grossa protuberanza sul collo. Signore Griffin si chiama Testa, mi hanno già fregato una volta. Sì, ma vuole dare un'occhiata, potrebbe essere un tumore. Ok, diamo un'occhiata. Oh sì, sembra che ci sia gran bel davanzale, complimenti. Grazie, grazie a nonna Griffin in realtà. Sembra che ci sia un gemello vestigiale sottocutaneo che sta crescendo nel collo. Ma, ma che cos'è? Beh, è un gemello incompleto che non si è mai sviluppato armonicamente, ma esiste ancora come screscenza che si nutre del suo corpo. Stia fermo, le somministro un leggero anestetico locale e poi controllo meglio. Ciao ciao a tutti! Ah! Che diavolo è quello? Ostra cacchio, è un mini me! Beh, vedo che è molto più formato di quanto pensassi. Wow, tua moglie è strepitosa! Cos'è, un piede? Quasi! Ma è pazzesco! Finalmente avrò un profilo interessante per l'esibizione dei poeti freestyle jazz! Ho lasciato la mia poesia a casa mia. Ciao a tutti!